Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la serie delle 7 Sono le 7 e noi siamo puntuali, precisi come un orologio svizzero, la serie delle 7 esce alle 7 Signori miei, siamo tornati con i vostri gamberetti che nel scorso episodio abbiamo fatto grandi cose A parte la partita di Coppa siamo riusciti a fare 3 vittorie su 3 partite che ci hanno portato su in classifica al settimo posto Come potete vedere adesso in grafica Detto questo ragazzi, prima di partire con il video vi ringrazio per i like, per i suggerimenti, per i commenti E per il supporto che state dando e che darete a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 I link sono in descrizione e se volete supportare il canale con delle piccole donazioni Trovate anche lì il link in descrizione per poterle fare Detto questo partiamo con il video Ok ragazzoli, allora io non ho fatto un passo dall'altra volta Quindi andiamo subito a fare gli allenamenti Questa volta alleniamo i difensori Che però c'è quello rotto Quindi c'è Hamilton rotto Quindi andiamo a mettere qualcun altro Ce l'abbiamo un difensore che deve crescere No, c'abbiamo un terzino Mettiamo il piccolo drollo Mettiamo il piccolo drollo che deve crescere Lettura Facile, no, difficile Questo, ecco, bravo, allena di lì zio Allena di lì Dai così, dai così Davrei anche se Kill il portiere sale a 74 Ed Hamilton a 68 Hamilton con il doppio lavoro si sta spezzando la schiena Tra la Formula 1 e i nostri gamberetti Sta facendo una grandissima carriera Allora Chat giocatore Ampadu Amponsa Perché lo chiamo Ampadu? Si chiama Amponsa Si chiama Amponsa zio Non si chiama Ampadu Lo sbaglio sempre Va bene Allora ok Ci siamo Avanti con la prossima partita Speriamo di riuscire a far bene anche in questo episodio Mamma che partite ravvicinate che ci sono Raga Ma porca miseria Allora io direi di confermare gli undici Che hanno vinto l'ultima partita Che sono ottimi praticamente L'unica cosa forse leverei A Mariani di qua E Amponsa Questa volta si fa a fare un giro A posto di Raid Sullivan Nicholson Io confermerei loro Raga Confermerei loro Dopodiché la prossima partita Che era avvicinata Faremo qualche cambio Per far rifiatare un attimino la squadra E' un po' stanco Hamilton Però sono sicuro che ce la può fare Morecambe contro Southend Vengono da un parigio contro il Colchester Noi che ci fanno? Ci vinciamo 5 a 1 Mamma mia Che risultato rombo under Raga 5 pere Prendi e porta a casa Goldio Sullivan Tripletta di Nicholson E un gol di Morris Sono entrati Naga Casa Dei e Bats Per Hamilton Harwood E Raid Buono così Anche Naga ha giocato Così non si dovrebbe lamentare Il nostro piccolo Naga Dagli così Dagli così Andiamo alla prossima partita Sabato Sabato Raga Continuiamo a essere tre punti Dalla zona playoff Mamma mia Ci abbiamo rifiato sul collo del Coverti City Allora Qui qualche sostituzione dobbiamo farla Raga Qualche sostituzione dobbiamo farla Raid è distrutto Quindi gioca a Ponsa Che lo rimettiamo di qua A posto di Nicholson Facciamo giocare Esposito Perché lo devo per forza A posto di Mitchell gioca Lincey Qua davanti Leviamo Morris E facciamo giocare Naga Che è incavolatissimo Praticamente Naga va a giocare lui E' incavolatissimo Quindi diamogli spazio E basta E basta Va bene così Non posso cambiare più di tanto Non posso cambiare più di tanto Hamilton se la gioca Perché Vaz quant'è Vaz è un 67 Vaz non è mal Dai Diamo Vaz Che è messo meglio Eppure triste Quindi la facciamo giocare Così dopo un attimino Per riprendersi Mi sta deludendo Naga Raga Mi sta deludendo Naga Che si sta arrabbiando In maniera troppo facile Allora Partita di campionato Seconda partita del video Contro il Bristol Rover Vengono dalla nuova vittoria Contro il Colchester Siamo fuori casa Noi che ci fanno? Ci vinciamo 3 a 1 Mamma mia Raga Ma di che stiamo a parlare? Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Doppietta di Mariani Un gol di O'Sullivan Si è rotto Vaz Questa è una bruttissima notizia Che tra l'altro L'ha stato anche ammonito E ha ammonito anche Lincey E' uscito Naga Per Morris E proprio Vaz Per Hamilton Dai e così Dai e così Bella raga Una vittoria importantissima Due vittorie su due importantissime Allora Continua a fare gli allenamenti? No Qua sono tutti rotti Quindi cambiamo Andiamo sui centrocampisti Che porca miseria Dovevo salvarle Dovevo salvare Allora Qui andiamo a rimettere Amponsa Che lo facciamo allenare Su Scenali difensivi esperti No Mi serve Intercessione Scivola Va bene Allenati lì E poi qui ci andiamo a mettere L'altro centrocampista Come ho detto Perfetto Che si deve allenare In dribbling Velocità scatta Controllo palla Ok E come faccio a salvare? Vabbè Simuliamo tutto Però raga Cunningham Sala 54 Bravo Cunningham Bravo Cunningham mio Bravo Bravo zio Bravo zio Continua a crescere così Continua a crescere così Anche Amponsa Vicino a 64 Tanta roba Giocatore infortunato Per quanto Quattro mesi per Vaz Ma porca miseria Abbiamo perso Il nostro Difensore centrale Della panchina Raga Per quattro mesi Io spero che torni Il più presto possibile Salazar Io spero che torni Il più presto possibile Salazar Signori miei Mitchell vuole giocare Va bene Mitchell La giocherai Non ti preoccupare Mitchell mio La giocherai La giocherai Mitchell Allora I nostri titoli Si sono riposati Io direi Lasciamo dentro Naga Prima che si arrabbia Ancora di più E Claudio O Sullivan In panchina Per casa dei Amponsa Marianni Lo mettiamo fuori Per Raid Fuori Sposito Dentro Nicholson Fuori Lindsay Dentro Mitchell Vaz è rotto Quindi gioca Hamilton Che però Non possiamo portarci In panchina Vaz lo lasciamo fuori E ci portiamo Ci portiamo Lindsay Ci portiamo Lindsay Il piccolo drollo Hamilton McKinley Va bene Va bene Sono loro i nostri titoli Per questa partita Raga Dai Dai Voglio un'altra vittoria Voglio un'altra vittoria Voglio un'altra vittoria Contro il Plymouth Contro il Plymouth Raga Dai Loro vengono da un pareggio Contro il Colchester Loro vengono da un pareggio Contro il Colchester Noi che ci fanno Ma siamo a casa Raga Siamo a casa 3 a 1 Doppietta di Claudio Un gol di Mitchell Mamma mia Raga Una squadra Schiaccia sassi Abbiamo Abbiamo trovato La quadra Della nostra formazione Signori miei Gol di Mitchell Doppietta di Claudio E' uscito Raid Per O'Sullivan E Naga Per Morris Mamma mia Raga Una squadra Schiaccia sassi Una squadra Schiaccia sassi Porca miseria Andiamo a fare Gli allenamenti Che alleniamo ora Aspettate un attimo Chi possiamo allenare Alleniamo gli attaccanti Che sono gli unici Che prende Sono sistemati Alleniamo loro Dai Johnson sale a 63 Johnson vede il campo Col binocolo L'unico che non si lamenta Meno male Bravo Johnson Bravo Johnson E' bello pagato Si sta in banchia Non dà fastidio Bravo Johnson Allora Allora Andiamo a leggere questa email Andiamo a leggere questa email 3 mail Chi è che parla Chi è che parla McKillay McKillay Apprezzo il tuo impegno Bravo il nostro portiere Lindsay Se non decide Mandarmi in campo Porca miseria Lindsay va bene E Mitchell Ringrazio Prestazione autorevole Bella così Bella così Andiamo avanti Raga Andiamo avanti Intanto siamo quarti in classifica Raga Siamo quarti in classifica 32 punti Mamma mia Giocatore ristabilito Giochiamoci l'ultima partita Della giornata Raga Ultima partita Della giornata Salazar E' tornato dall'infortuna Però per precauzione Non lo manderemo in campo Raga Giochiamo con loro Gli unici che si sono lamentati Sono stati Allora Leviamo droll E facciamo giocare Lindsay Così è tranquillo Leviamo claudio E facciamo giocare Morris Prima che mi si arrabbia Pure lui Leviamo un ponsa E facciamo giocare Mariani E poi non toccherei Più nulla Raga Va bene così Va bene così Scendiamo in campo Così Ultima partita Raga Ultima partita Del video Vediamo se concludiamo Il mese di Settembre Se non sbaglio Il mese di Ottobre Vediamo se lo concludiamo Il mese di ottobre Con un'altra vittoria Contro il Salford Loro vengono Da una vittoria Contro il Colchester Siamo fuori casa Noi che ci fanno Vinciamo 2 a 1 Con doppietta di Nicholson Raga Ma che ve lo dico a fare Ma che ve lo dico a fare Sono entrati Amponsaio Sullivan Per Raid E Casadei Doppietta di Nicholson Uno su rigore Uno su azione 2 a 1 E altra vittoria Per noi Raga Altra vittoria Per noi Io non mi muovo Da questa situazione Raga In classifica Siamo terzi Siamo terzi A 35 punti A un punto Dalla qualificazione Diretta Raga Spettacolo Spettacolo Due episodi Bellissimi Quello di ieri E quello di oggi In cui siamo risaliti In alta in classifica Detto questo ragazzi Ci fermiamo qui E vediamo domani Se riusciremo a portare avanti Ancora questa striscia Con altre vittorie Detto questo ragazzolio Vi ringrazio Vi ho guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.